questo va via a 14.000 euro questo va via a 14.000 euro non mi interessa che il mio direttore mi dica no Marco a 14.500 li metto io li metto io ma qui una risposta deve arrivare ma non tanto perché io possa mettere 500 euro per ulteriore incentivo tanto quanto questa è un'opera fondamentale nella storia dell'arte signori nella storia dell'arte non si fanno 15 biennali di Venezia per niente non si vincono tre edizioni della biennale di Venezia per niente questo è Giulio Turchato questo è Giulio Turchato ha una biografia enorme, profonda, significativa ma dai ma non è storia ma non è storia questa è storia dell'arte vera mancano 15 minuti al final rubrica porta via tutto Marcello non mi interessa più nient'altro non mi interessa più nient'altro perché poi ci si incaponisce certo che ci si incaponisce il mio lavoro è quello del suggeritore non è quello del venditore e un suggeritore deve parlarvi di storia dell'arte un omaggio a Klein con sabbie gli arcipelaggi dripping probabilmente anche pubblicata nel 1970 già archiviata è un'opera da 35 mila euro ma in silenzio a testa china le orecchie abbassate e ringraziando il cielo di averla trovata a 35 mila euro ve la stiamo proponendo a 14 e 5 e vi propongo io questa sera una mia provocazione che durerà per i prossimi 15 minuti a 14 mila euro a 14 mila euro quanti nomi avete comprato a 28 mila 32 mila 45 mila con la promessa che con il domani che arriverà con il forse con il si dice con i rumors con le voci di corridoio qui abbiamo solo ed esclusivamente storia dell'arte solo ed esclusivamente quello se poi volete seguire qualche altro sentiero o qualche altro percorso arbitrariamente fatelo io non ho più un briciolo di voce in gola signori credetemi non ho più un briciolo di voce in gola ma chi perde quest'opera a 14 mila euro commette un macroscopico e grossolano errore di valutazione soprattutto tutti coloro che hanno dimostrato in questi 30 anni non in questi 3 giorni 30 anni di aver bussato alla porta di artisti notevolmente meno blasonati di Giulio Turchato e a cifre diametralmente opposte economicamente parlando bene ora recuperino ne hanno la possibilità ne avete la possibilità ne avete la possibilità di poter mettere le mani su uno straordinario capolavoro firmato Turchato archiviato Giulio Turchato a 14 mila euro l'amico Vittorio che ha parlato ancora oggi pomeriggio con la nostra Giado i due tre amici che si sono uno dopo l'altro succeduti nell'ambito della valutazione dell'approfondimento di questo lavoro bussino ancora una volta alla porta di telemarket provino a valutarlo provino a leggerlo provino a considerarlo come uno dei grandi capi scuola perché quest'uomo lo è movimento GAS il gruppo d'arte sociale il movimento MAC il gruppo d'arte completa concreta forma 1 porta la sua firma il fronte nuovo delle arti porta la sua firma il gruppo degli otto di Lonello Venturi dal 52 al 54 porta la sua firma otto quadriennali di Roma portano la sua firma tre opere comprate tre opere comprate dal mamma di New York e noi oggi ci domandiamo a 14.000 euro se è da prendere o meno è partito anche il hai visto? e noi oggi a 14.000 euro ce lo domandiamo se è da prendere o meno Giulio Turchiato questa è un'opera da passare ai vostri figli signori questo è un lavoro fondamentale da passare ai vostri figli questo è un lavoro fondamentale da passare ai vostri figli ma mi dite davvero dove siete ma mi dite davvero dove siete santo il cielo ma mi dite davvero dove siete ma ve lo porto a casa adesso io ovunque voi siate lo ficco in macchina e parto cioè non è davvero possibile credetemi signori io faccio questo lavoro con trasporto e con passione posso passare per sanguigno posso passare per esagerato Marco non arrabbiarti Marco non alzare la voce non ce l'ho più la voce lo sa solo il Dio come sto facendo a parlare in questo momento eppure ho una volontà interiore una forza profonda probabilmente frutto di studi probabilmente frutto di passione ma ho avuto il piacere di studiare Turkato per anni e adesso la gioia di proporvi una sua opera che sul mercato vale due volte e mezza tanto a 14.500 euro questa è la condizione finale applicata da questa realtà e 500 euro ce li sto mettendo di tasca mia a 14.000 euro di richiesta finale ci arrivino tutti coloro che hanno sempre scelto i grandi ci arrivino tutti coloro che hanno sempre messo i loro occhi sui straordinari e più importanti capolavori oggi presenti nella storia dell'arte perché quest'uomo è la storia dell'arte informale italiana nel mondo non ditemi più niente non voglio sentire nessuno e niente io la trasmissione la chiudo su quest'opera io la trasmissione la chiudo qua poi vuoi proporre il mio licenziamento a 40 giorni prima della fine di questa avventura non cambia nulla però io devo spendermi per tutti coloro che ho difeso in questi 14 anni perché quest'opera e quel Piero Dorazio che avevamo qualche giorno fa sono i due capolavori di questa ultima chance di trasmissioni di telemarket e non vi sto chiedendo 80 mila euro 90 mila euro 120 mila euro bensì 14 mila euro mettendocene 500 di mio di mio lo faccio con passione signori cosa vi devo dire poi qualcuno veda in me qualcos'altro io lo faccio con passione lo faccio con dedizione lo faccio perché questi sono gli artisti più importanti che sono transitati nel tessuto connettivo internazionale confermato hai fatto bene a spiegargli il giro Marcello hai fatto bene a spiegargli il giro perché era proprio questo è strano di solito con i numeri non sbaglia eh no non avete mica capito però mamma mia signori io sono veramente domani ci vediamo alle ore 13 con una replica ve lo dico già oppure che ne so con i cartelloni no no ci sono ci sono perché l'arte antica lo sapete è bravo direttore così almeno bravo chi devo chi devo ringraziare per il mamma mia ragazzi Renato grazie di essere veramente con noi grazie davvero di cuore basta 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti